Il sedicesimo concorso biennale dedicato a Nicola da Guardia Grele per studenti e affermati maestri artigiani. L'associazione Gioiello Contemporaneo, la scuola di perfezionamento di Firenze. Sono alcuni dei riferimenti per la 45esima edizione della mostra dell'artigianato di Guardia Grele. Il professor Gabriele Vita Colonna, direttore artistico, fa sintesi del progetto. Sembra sull'innovazione, però come al solito prevale la tradizione, perché l'artigiano abruzzese è molto bravo. Tende sempre ad aggiornarsi per un motivo semplicissimo, perché la tradizione è più vendibile. La mostra va in scena dal 1 al 20 agosto. Da molti anni rappresenta la conclusione di un'attività che si esprime tutto l'anno all'interno del Palazzo dell'Artigianato in Via Roma. Attività rivolta soprattutto ai giovani, come spiega il presidente dell'ente mostra Gianfranco Marsimilio. Dico grazie alla scuola di perfezionamento che è a Firenze, che ha portato tanti ragazzi stranieri. Ho visto nomi di cinesi, giapponesi, coreani e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere perché ha dato una dimensione internazionale alla nostra edizione, alla 45esima edizione della mostra. Le speranze per il futuro della mostra nelle parole di quattro giovani amministratori. Cominciamo dal sindaco Simone Dal Pozzo. Noi insieme con il presidente e con l'ente mostra ci faremo parte diligente per l'istituzione di questo tavolo invocato dal presidente Marsimilio perché si lavori su quei progetti di grande e largo respiro che ci possono proiettare oltre i confini. Il sogno digitale dell'assessore Pier Giorgio Darapelle. Penso che ciò che si potrebbe fare, oltre che le creazioni che avvengono ora attraverso le stampande digitali, ma penso che anche la creatività che è presente sul web attraverso creazioni originali e anche di siti e di interfaccia potrebbe essere una nuova frontiera da esplorare. Dal vice sindaco Luca Primavera ha un pensiero dedicato al grande personaggio simbolo dell'arte orafa Guardiere. La mostra nasce con il quadro di Luciano Primavera con la croce di Nicola da Guardiagrele. A me piacerebbe promuovere fuori da Guardiagrele questo suo artista e invito tutti a visitare le opere di Nicola da Guardiagrele che sono presenti non solo nel territorio abruzzese ma anche fuori dall'Abruzzo. Il rifiorire delle botteghe è quello che desidera invece il presidente del Consiglio Comunale, Nevio Salomone. La capacità di adeguarsi, adattarsi sempre a nuove esigenze con l'utilizzo di nuovi materiali, di nuove soluzioni, di per sé è la chiave di volta della società moderna. Grazie a tutti.